È un wing speciale, perché il personaggio lo conoscete sicuramente, ma l'abbiamo sempre presentato come dirigente del Gena, l'uomo che ha lanciato tanti calciatori tra i professionisti, ma è anche un genuano, perciò questo è vero, importa, genuano. E chi ci abbiamo qui di fronte a noi? Michele Sbarabatti. Michele Sbarabatti, perché sei genuano? È una domanda che a volte così sorprende anche molti genuani stessi, sicuramente il fatto di aver fatto parte di questa famiglia, la famiglia Rosso-Blu, fin da ragazzino, avendo avuto il privilegio di essere scelto dall'allora talent scout a Milcare Pallotti, che era il direttore sportivo del settore giovanile ai tempi della presidenza Fossati, che è stata una figura storica per il Genoa e per il settore giovanile genuano in generale. Tantissimi giocatori sono stati scelti da Milcare Pallotti, che all'epoca aveva come allenatori Perotti, Maselli, Rosi, Gittone, insomma un settore giovanile da cui sono usciti tanti ragazzi, quindi entrare a far parte di questa famiglia poi ti coinvolge, ti coinvolge e ti trasmette una sensazione non tanto di tifo quanto di appartenenza, che è quello che noi poi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, perché il senso di appartenenza, la consapevolezza della responsabilità che si ha nel far parte di questa società, ti rendi conto di questa importanza dell'importanza quando non ci sei più, o quando magari cambi squadra, quando l'apro il punto lì magari rimpiangi, quando ci sei magari fai notare le manchevolezze, i difetti, ma potremmo fare meglio così, ma a volte sai il classico Mugugno, Genovese, Belin, però si potrebbe, e poi quando non ne fai più parte ti accorgi di cos'è che hai perso. Michele, tu arrivi dalla regiera di Ponente, prima a conquistarlo, oltre il Savona. No, no, ma noi abbiamo sempre avuto come… vabbè, io non sono ligure, quindi sono lombardo di nascita, quindi non vengo da una famiglia genuana, vengo da una famiglia di fede diversa, perché i miei genitori erano una mamma interista e un papà juventino, perché giustamente in Lombardia, soprattutto in Brianza, in particolare la fede juventina, e oltre a quella juventina delle due squadre milanesi, ovviamente la fa da padrone. Poi una volta inserito qua sicuramente c'è stata subito una simpatia, poi l'inserimento a 14 anni nel settore giovanile ha prodotto questo affetto e poi negli anni il consolidamento di questo senso di appartenenza. Ma cosa vuol dire per uno che arriva a parte dal settore giovanile e arriva a giocare in Serie A, come è successo a te, in Serie B? Ma sì, è successo che stava un copro di fortuna, perché io non ero gran che come giocatore, ero un buon giocatore nel settore giovanile, ero come posso dire, ma ho sempre fatto a fare il capitano, probabilmente ho guadagnato un po' di galloni come giocatore, perché dai giovanissimi e così, forse ero più vecchio degli altri già allora, anche se avevo qualche cappello biondo in più, e quindi così sono sempre stato riconosciuto dai compagni, dagli allenatori come un ragazzo all'epoca e poi come un giocatore probabilmente di riferimento, forse più per gli atteggiamenti morali, per i comportamenti che non tanto per le qualità tecniche. Ero un buon giocatore, però ho fatto una carriera da professionista normale, tra un po' di B, tanta Serie C, un po' di sfortuna, con magari qualche infortunio grave a 22-23 anni che mi ho un po' conosciuto, però sai molti dicono, se non mi fossi fatto male sarei arrivato invece, io ti dico, se non mi fossi fatto male avrei fatto poco più di quello che ho fatto, non è vero, non è un alibi. Con chi giocavi in quella famosa squadra? Eh noi avevamo una bella... Io se non sbaglio ti ho visto anche debuttare al Ferrari. Sì, io ho debuttato al Cibali di Catania in un 4-1 dal primo minuto con una doppietta di Fiorini e Godi, Simonette e Benedetti, se non sbaglio. In quella squadra c'erano anche Chiappino, Picasso, Rotella e Ragno. Erano infornati giocatori bravi, qualcuno più bravo di me sicuramente, e altri che hanno fatto anche la Serie C. Nella primavera c'era Gagliardi in Porta, adesso è preparato i portieri del Genoa. No, noi abbiamo avuto la fortuna di avere degli insegnanti molto bravi, però Temaselli sono stati degli esempi straordinari, Mainetto, Rosino e tanti altri. E devo dire che eravamo tutti di Genoa, eravamo tutti ragazzi salvo qualche d'uno che già il buon Gino Bondioli all'epoca portava da Latina come Simonetta, come Somma ed altri ragazzi che poi sono sgrò, che poi sono saliti alla ribalta del caccio italiano. Del Genoa cosa ti è rimasto impresso? Genoa squadra, risultati, perché tutti parlano di Liverpool, però uno come te può essere che ci abbia qualche cosa di diverso dentro. Allora, io mi ricordo Lino il vecchio Marassi, cioè il vecchio Marassi, quando noi abbiamo giocato, io avevo esordito lì a Catania, poi abbiamo fatto questa partita, la seconda gara di campionato, siamo stati confermati in casa con l'Arezzo, una partita a Marassi con l'Arezzo sotto la pioggia, era una partita di Serie B normalissima, era Landoi Burnic, Terceso Burnic ci fece esordire noi. E mi ricordo questo impatto con Marassi, clamoroso, con questa storia che poi quando vincevamo la Columbus Cup nell'85, io faccio guardi con la squadra lì, furono due giornate a feragosto, 14 e 15 di agosto, con 40-45 mila spettatori. Giocavamo contro il Milan, se ti ricordi, il primo Milan di Berlusconi con l'Idolo in panchina, la semifinale con la Sampdoria di Boscov, e poi la finale con il Milan, la quarta squadra era l'Argentinos Junior, era la Columbus Cup in commemorazione delle Colombiadi, erano 86 se non sbaglio, e ti dico 45 mila persone mi chiamarassi, non riuscivi. Mi ricordo che parlando con Testoni e Trevisan, cercando di parlarci in campo, per dare le indicazioni, spostati di qua, metti di là due metri, non riuscivamo a parlarci perché non ci si sentiva, a 5 metri di distanza. Incredibile. Il Ferraris ha sempre fatto la differenza, sta facendo la differenza anche in questo momento, dopo subito dirigente, settore giovanile, da poco a poco, adesso quando si parla... Anche allenatore, prima allenatore, allenatore per tre anni, della categoria giovanissimi, con giocatori come Sciararo, Stovaro ed altri, che hanno fatto poi professionisti, e poi il ruolo... la società decise di affiancare alla figura del direttore sportivo della Preve, era un responsabile del settore giovanile, io ho preso il posto di Lorini, credo, no, di Landini, di Spartaco, che poi torna a fare direttore sportivo, parliamo del 2006, e... Spartaco e Landini. Spartaco e Landini, sì, io amichevolmente di Spartaco per la mia cifra, e con Mario si creò questo binomio, perché poi si creò una situazione che poi... Mario Donatelli. Mario Donatelli, sì, giustamente ha ragione, meglio dire, Mario Donatelli, che poi adesso è il direttore sportivo della prima squadra, lui si occupava in particolare della primavera, poi ci hanno invitato in tante altre società, una volta c'è un responsabile del settore giovanile unico, invece poi molte squadre hanno adottato questa diarchia, diciamo così, questo binomio con il doppio responsabile, e così abbiamo iniziato il percorso. Senti, ne parleremo mercoledì abbondantemente, prossimo, ti sei arreso, sei andato via dalla sciorba, hai fatto begatello, lo possiamo chiamare begatello, con un anello, vabbè, ti sei impegnato fino alla morte per riuscire a fare questo begatello, che sembra che sia veramente un piccolo gioiellino, solamente un annuncio, dopo abbiamo finito, perché dopo lo riprendiamo mercoledì. Sì, innanzitutto io centro poco, i meriti del nuovo centro sportivo di Begato sono soprattutto del Campomorone, di Alessio Vernazza, dei suoi uomini, del suo staff, perché io sono stato partecipare un po' di quelle che erano le idee di Alessio, su come rinnovare il centro sportivo di Begato 9, bello tra l'altro, è stato un bel lavoro, lo vedrete, e questo va a compensare la perdita della sciorba, che è una perdita grave, è una perdita che mi ha, insomma, che ci ha toccato tutti particolarmente, perché l'impegno... L'altra cosa è caduta nel ponte. Sì, no, la sciorba è stata un salto di qualità enorme per noi negli anni scorsi, perché dai primissimi anni in cui io facevo l'attività di base, veramente eravamo in grande difficoltà, la sciorba ci ha dato grande impulso, grande visibilità, siamo diventati attrattivi, siamo diventati, come posso dire, eravamo anche più rispettati in generale, quando ospitavamo le squadre, e quindi la perdita della sciorba è stata un bel colpo, un brutto colpo per noi, per tutto il movimento giovanile, quindi... questo anno e mezzo è stato difficile, poi ci sono stati gli avventi del ponte, che hanno ulteriormente complicato la viabilità e la mobilità dei ragazzi, delle famiglie, infatti meritano un grande applauso i dirigenti, molti dirigenti volontari, i nostri allenatori, e soprattutto le famiglie, i genitori, che non hanno perso fiducia, insieme a noi hanno tenuto duro, e adesso possiamo dire di poter ospitare la nostra attività di base, la nostra scuola a calcio in una struttura adeguata. Tanti giocatori che sono diventati professionisti, che sono passati sotto di voi, però tutti i giorni quando apriamo il giornale, il Genoa è sempre in prima fila per questo settore giovanile, adesso ci sono tre giovanotti, under 15, convocati con la nazionale. Sì, proseguo un po' la filiera, i convocati nazionali sono una bella gratificazione, però la cosa più importante, come abbiamo detto anche in passato, è che durante la gestione dei preziosi ci sono oltre 130 ragazzi che hanno raggiunto il calcio professionistico, quindi che hanno coronato il loro sogno di fare del calcio alla loro professione. Poi in questi 130 c'è chi lo fa da 10 anni, chi l'ha fatto per 5, per 6, chi ha raggiunto uno stipendio da 2.000 euro al mese, chi l'ha raggiunto da 200.000 euro al mese, chi gioca in Serie A, chi è arrivato in nazionale, insomma ci sono tante gratificazioni, tante cose belle e devo dire che comunque anche chi non ce l'ha fatta, a parte che 130 sono tanti, perché sono 13 anni dell'era del presidente preziosi della nostra gestione del settore giovanile e sono una media di 8-10 all'anno, che sono tanti. Di questo una trentina di Liguri, anche per smentire il detto che in Liguria non si fanno calciatori, perché le colline sono troppo vicine al mare, quindi i calciatori non si fanno, invece ci sono 30 Liguri che sono riusciti a diventare professionisti e anche quelli che non sono diventati professionisti, però hanno fatto un bel percorso e devo dire che molti, magari qualcuno sarà deluso perché non ce l'ha fatta, qualcun altro magari sarà rammaricato per qualche episodio negativo che gli è accaduto, però molti altri che non ce l'ha fatta, che magari lavorano, hanno trovato uno sbocco nei direttanti, i giovani direttanti hanno trovato anche lavoro, credo portino un bel ricordo al nostro settore giovanile. Michele, qui ci abbiamo con noi Alessio Semino che ha fatto un bellissimo pezzo perché sono di moda i giocatori polacchi e lui ha scoperto che Bognac quando è stato eletto presidente della federazione polacca ha deciso che giocano solamente a due stranieri in una formazione che tutti gli altri sono polacchi, sei d'accordo? Allora, questo è un argomento che abbiamo toccato anche un po' di anni fa, io provocatoriamente, non provocatoriamente, era la mia idea e rimango di quell'idea che il fatto di avere tanti italiani nel settore giovanile e tanti ragazzi magari cresciuti in casa possa portare le nostre nazionali, il nostro club Italia e quindi anche le nazionali maggiore ad avere maggiori benefici, poi in sede di selezione e quant'altro. adesso dobbiamo un po' trovare un buon compromesso perché qui effettivamente il numero dei stranieri è elevato e ce ne sono veramente tanti, però le regole sono queste, non ne può impedire, dopo la comunità europea è questa, poi la possibilità del mercato allargato che ha portato le società italiane anche probabilmente a fare degli affari economici migliori, poi ci sono tanti stranieri che sono esplosi, altri che poi i costi magari possono essere differenti, questo magari è un argomento che non tocca direttamente il nostro campo che è quello del settore giovanile, però credo che per esempio non dico un'obbligatorietà, però mettere dei limiti alle rose con un determinato numero di italiani parzialmente se già è stato fatto, però incrementarlo ancora, per esempio in Serie D c'è l'obbligatorietà di 4 giovani, mettere nelle rose dei campionati italiani, anche di Serie A secondo me, qualcuno dice che le società si indebolirebbero e perderebbero di competitività, secondo me no, perché ogni società italiana avendo la possibilità di far giocare, adesso mi viene in mente Sturaro, rientra il Genoa, rientra il Genoa diventa uno dei 4-5 di puro settore giovanile, Sturaro magari vale più o meno, probabilmente di più anche di tanti centrocampisti stranieri che sono arrivati in Italia in ultimi anni, Mimmo Criscito è un altro esempio, quindi alla fine se tu hai la possibilità di poter avere sotto input federale con l'obbligatorietà a questo punto 4-5 italiani cresciuti nel tuo settore, secondo me dopo un'opportuna esperienza fatta in giro, condizionerebbe anche le scelte dei direttori sportivi, perché a quel punto il direttore sportivo di Serie D cosa fa Alino? Sceglie prima i 4 giovani e poi sceglie i vecchi, perché dice se non abbiamo i giocatori in quota non possiamo farlo. Michele, l'ultima domanda, è una soddisfazione Zanimacchia perché è andato in prestito alla Juventus, adesso per mandare a Sturaro a Genova la Juventus vuol riscattare totalmente Zanimacchia? Luca da noi non ha fatto proprio il percorso del settore giovanile, è arrivato già in primavera, però ha dimostrato subito le sue qualità, tra l'altro una cosa particolare, ci sono dei ragazzi magari cresciuti in Lombardia? La domanda del Cento Pistole è questa, perché non è mai stato buttato nella mischia di una Serie A quando il Genomo potrebbe essere in crisi in determinati ruoli senza parlare di allenatore, senza parlare di questo, senza parlare di nessuno, perché non si giocano queste carte dopo quando escono Gizzagnolo, i Trore, quando esce Barella, sono tutti fenomeni perché hanno tirato fuori questi ragazzi qui, perché? Se c'è fosse l'obbligatorietà di metterli in rosa e di farli giocare, giocherebbero di più, è quello che dico io, invece in Italia manca il coraggio di rischiare, cosa che ha avuto la Roma, ha fatto bene con l'esempio di Zagnolo, perché probabilmente Zagnolo poteva essere sicuramente già bravo l'anno scorso all'Inter, oppure tre anni fa quando faceva gli allievi nazionali della Fiorentina, probabilmente era già un ragazzo di talento, lui è stato qui a 11 anni e non ci ha tradito, che faceva avanti dietro dalla spezia, all'epoca non avevamo un servizio pulmini, che faceva avanti dietro dalla spezia, l'abbiamo inserito solo due anni dopo, eravamo all'inizio della scuola calcio, all'epoca eravamo un po' in difficoltà, ci allenavamo nel vecchio Bolzaneto e era difficile, la Fiorentina gli mise a disposizione un pulmino che lo andava a prendere a Massa Carrara, dove lui nel frattempo aveva preso la residenza con la famiglia e per questo motivo, soprattutto per un motivo logistico, a 11 anni non siamo riusciti a proseguire il percorso. Però ritornando al discorso di prima, ci vuole coraggio, c'è poco coraggio, ci sono troppe perplessità da parte delle società e degli allenatori a far giocare il giovane, a rischiare il giovane, anche questa storia che la piazza è importante, si rischia di bruciare un giovane, non è vero, secondo me è una stupidità, se uno è bravo a 17-18 anni può giocare, però con l'aiuto di alcuni regolamenti federali che magari possono costringere le società a metterne nella rosa 4-5 giovani in più di puro settore, secondo me alla fine potremo avere più possibilità di far giocare.